Giuseppe Simoni, lei è il responsabile del settore della mountain bike, tra poco avremo i campionati italiani e poi una stagione intensa. Sì, fra 15 giorni saranno i campionati italiani, nonché tra federali regioni di mountain bike orienteering in Friuli di Valencia Giulia, per la precisione Andolenia del Coglio, dove abbiamo già gareggiato lo scorso anno, terreno molto interessante, molto bello. Due giorni di gare molto impegnative perché c'è una gara sprint di sabato pomeriggio e una gara long valida appunto per il campionato italiano, oltre che per il trofeo delle giorni la domenica. La gara sprint di sabato è anche valida come gara della Coppa Italia e ci aspettiamo una partecipazione abbastanza massiccia, sappiamo che per certo interverrà anche la squadra junior dell'Austiaca e anche probabilmente qualche atleta della senior, sicuramente un paio di atleti molto forti. Anche della vicina Slovenia di sicuro avremo partecipazione, ci aspettiamo quindi un numero congruo di persone. So che l'organizzazione è già al lavoro e a buon punto, percorsi sono pronti, direi insomma che di sicuro ci accoglierà un ottimo apparato organizzativo come sempre peraltro. Poi mi piacerebbe spendere due parole anche sul prossimo impegno che ci sarà in Puglia, una trasferta abbastanza impegnativa per noi dal Nord ma che sicuramente accoglieremo e faremo molto volentieri perché ci aspettiamo dei terreni diversi ma molto interessanti, saremo vicini al mare al 20 maggio, mi aspetto che ci sia già l'acqua calda, la possibilità di fare il bagno, perché no? Unire un po' l'utile al dilettevole. Sandro Passante e la sua società stanno lavorando allacremente per la realizzazione di questo evento, una mappa realizzata da Jaime Origi, specialista e ottimo atleta della Nazionale di Mountain Bike, quindi anche lì sicuramente troveremo terreno e tecnica estremamente interessante, quindi un invito a tutti gli orientisti a partecipare perché sicuramente sarà un evento di altissimo livello. Volevo io spendere le tue paroline per la Nazionale che sta per partire per un raduno e un allenamento in Danimarca dove troverà tutti gli atleti più forti del mondo che in primavera si danno appuntamento ormai tradizionalmente nei terreni danesi e abbiamo giusto giusto fatto le iscrizioni per i campionati europei in Polonia, dove certamente i nostri rappresentanti potranno dire la loro. È anche il primo evento di Coppa del Mondo dove ricordiamo l'anno scorso buoni risultati sia da parte di Laura Scarabonati che da parte di Jaime Origi e soprattutto di Luca Dallavalle che poi ha terminato con un quinto posto di classifica generale che fa bene sperare. Altri impegni poi della Nazionale in agosto con il Mondiale in Estonia, fine maggio allenamento organizzato sempre in Estonia per la Nazionale e insomma un bel calendario abbastanza ricco e fornito. La curiosità, la domanda potrebbe essere siete di fronte a una sfida importante, riuscire a fare meglio di chi vi ha preceduto? Eh sì, tra l'altro lottando anche con i problemi di budget purtroppo nel clima di spending review anche il Coni ha tagliato, sta tagliando notevolmente i contributi purtroppo lasciatemi dire che lo sport non ha sufficiente valore per quanto riguarda tanti aspetti per i tanti aspetti positivi che porta dal punto di vista sociale, sanitario eccetera. Non c'è solo un problema, non c'è solo un discorso di alto livello ma di tanti altri fattori positivi. Sappiamo però che il momento non è facile per l'Italia e stiamo subendo purtroppo anche noi questi problemi. Certamente con quello che abbiamo dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. L'esperienza maturata nei precedenti quattro anni dagli atleti da mountain bike che sicuramente hanno portato risultati mai avuti e forse mai sperati, speriamo che possano continuare quantomeno. Fare meglio? Speriamo, sarà difficile ma ci proviamo.